Martedì 31 ottobre ci troviamo a Pavia per un nuovo workshop d'infoprogetto organizzato da Action Group Editore, titolo della giornata edificio impianto. Circa 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, erano presenti inoltre delle aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Cercherò di raccontare quella che di fatto è la mia esperienza col mio studio, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, che stiamo facendo e che speriamo di fare ancora a lungo. Il nostro studio ha un'attenzione particolare alla sostenibilità che come vedremo in seguito è una sostenibilità, diciamo un concetto esteso di sostenibilità. Quindi non tanto sostenibilità, chiamiamola 1.0, solo energia e basta, ma una sostenibilità rivolta al futuro, quindi anche una sostenibilità intesa come benessere per gli occupanti di uno spazio costruito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.